Il potassio è uno dei minerali principali di cui il corpo ha bisogno in tutte le fasi della vita. Lo ritroviamo principalmente nelle cellule dei nostri tessuti ad una concentrazione di 150 millimoli litro oppure nei globuli rossi ad una concentrazione di 105 millimoli litro. A differenza del sodio che rappresenta il principale catione dei liquidi extracellulari, il potassio è un catione metallico che si trova quasi esclusivamente all'interno delle nostre cellule. Il corpo umano contiene all'incirca 3500 millimoli di potassio che corrispondono a 140 grammi. Il fabbisogno giornaliero di questo minerale viene garantito dall'assunzione di dosi variabili comprese tra 50 millimoli fino a un massimo di 150 millimoli che corrispondono ad un dosaggio giornaliero compreso tra 2 e 5,9 grammi di potassio. In effetti il nostro percorso evolutivo con il passare dei millenni ha cercato di indirizzarsi verso una dieta ad alto contenuto di potassio e a basso contenuto di sodio. Questo per sottolineare l'importanza del potassio per la nostra salute. Sebbene non sia stata ancora stabilita una dose giornaliera raccomandata, l'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda comunque un apporto giornaliero di circa 90 millimoli di potassio per gli adulti che corrispondono a circa 3,5 grammi di potassio ogni giorno. Invece si consigliano 800 milligrammi di potassio per i lattanti e 2 grammi al giorno di potassio per i bambini. Per gli individui anziani non è possibile stabilire a priori una dose giornaliera raccomandata, in quanto bisogna considerare lo stato di salute e le tipologie di medicinali assunti. Voglio ricordare che solo il 2-3% del potassio contenuto nel corpo è presente nell'ambiente extracellulare. Nel sangue le concentrazioni plasmatiche del potassio si aggirano intorno a 4 millimoli litro in condizioni normali. Durante il digiuno il nostro corpo cerca di mantenere in equilibrio i livelli extracellulari di potassio riducendo la secrezione renale e togliendo potassio dalle cellule muscolari. Questo è un evento che se non dura a lungo non causa particolari problemi ma se il digiuno persiste per molto tempo sono inevitabili ripercussioni sulle concentrazioni plasmatiche del potassio e sulle funzioni metaboliche cardiocircolatorie del corpo umano. Durante la gravidanza si assiste ad un aumento della captazione del potassio poiché questo minerale è essenziale per la crescita del feto. Quindi durante la gravidanza è fondamentale che la donna sia seguita dal punto di vista alimentare per evitare carenze nutrizionali. Le funzioni biologiche del potassio sono poliedriche all'interno del nostro corpo. Il potassio ha la funzione di essere un catalizzatore enzimatico in particolare nella glicolisi e nella fosforilazione ossidativa. Mantenere inalterati gli equilibri osmotici e di acido base del nostro organismo. Svolgere un'azione mio rilassante in quanto è un elemento essenziale per i tessuti muscolari e infine essere un mediatore del sistema nervoso e quindi contribuire alla trasmissione degli impulsi elettrici. La carenza di potassio è un evento tutto sommato abbastanza raro in condizioni normali in quanto questo minerale è presente in molti cibi e in molte bevande. Ci sono però delle situazioni particolari in cui si riscontra con facilità una carenza di potassio e sto parlando per esempio della malnutrizione calorica. Diete squilibrate o deficit alimentari possono provocare una carenza di potassio. Della diarrea cronica che può derivare da tutte quelle patologie a carattere immuno-infiammatorio che colpiscono il sistema gastrointestinale e sto parlando per esempio della colite ulcerosa o del morbo di Crohn. Dell'uso cronico di lassativi, dell'utilizzo di terapia a base di diuretici dell'ansa, di diuretici tiazzinici o di quelli osmotici. In caso di morbo di Cushing oppure di patologie mineral corticoidi che includono un aumento della secrezione dell'aldosterone che è un particolare ormone che favorisce l'eliminazione del potassio e la ritenzione del sodio. Una riduzione plasmatica delle concentrazioni di potassio si può infine verificare anche in combinazione ad una riduzione della concentrazione plasmatica del magnesio. I sintomi da carenza di potassio si evidenziano solitamente quando le concentrazioni plasmatiche di questo minerale risultano estremamente basse, ovvero inferiori a 3 millimoli litro. Questi sintomi comprendono debolezza muscolare che in casi estremi quando le concentrazioni plasmatiche di potassio sono estremamente basse può portare ad una paralisi respiratoria. Si possono poi verificare crampi muscolari, fascicolazioni, ipotensione e alterazione della funzione renale. Invece le carenze lievi di potassio non danno in genere alcun sintomo clinico. Il contenuto plasmatico di potassio è fortemente influenzato dall'insulina e dal pH del sangue. L'insulina tende a favorire l'ingresso del potassio nelle cellule attivando la pompa sodio potassica e la glicogenogenesi. In particolare ogni grammo di glicogeno che viene prodotto richiede circa 0,3 millimoli di potassio. Per questo motivo dopo i pasti le concentrazioni plasmatiche del potassio tendono a diminuire per effetto dell'insulina. Il pH del sangue è un elemento fortemente discriminante sul contenuto plasmatico del potassio. In caso di acidosi si assiste alla fuoriuscita di potassio dalle cellule e ad un aumento delle concentrazioni plasmatiche di questo minerale. Invece in caso di alcalosi il potassio viene captato con maggior avidità all'interno delle cellule. Ecco quindi che per un'ottimale valutazione è sempre utile analizzare in quelle situazioni borderline oltre alla concentrazione plasmatica del potassio anche il profilo emogas analitico. In particolare l'emogas analisi permette di quantificare l'ossigeno, l'anidride carbonica, il pH del sangue e permette di comprendere se sono presenti alterazioni nella ventilazione o nel metabolismo. Ogni giorno si perdono circa 1,2 g di potassio che corrispondono a circa 30 millimoli. Di queste circa 5-10 millimoli si perdono con le feci e solo 3-5 millimoli si perdono con il sudore. Tutto il resto del potassio viene invece eliminato attraverso le urine. La perita di potassio attraverso la sudorazione è un argomento che suscita più l'interesse economico che quello scientifico. Questo perché diversi studi clinici hanno indagato su quanto potassio si possa perdere con il sudore durante gli allenamenti sostenuti. In particolare uno studio clinico crossover randomizzato condotto su 18 atleti ha dimostrato che l'esercizio fisico favorisce l'eliminazione del sodio con il sudore ma influenza pochissimo l'eliminazione del potassio. Un altro studio clinico condotto su 12 partecipanti ha dimostrato che dopo 20 minuti di attività fisica in una camera climatica le concentrazioni del sodio e del glucosio nel sudore sono aumentate mentre le concentrazioni del potassio nel sudore sono rimaste invariate o addirittura diminuite. diverso è il discorso collegato alla massa corporea alipidica in quanto la perdita di potassio è strettamente correlata alla perdita di azoto. In particolare si perdono circa 2,7 millimoli di potassio per ogni grammo di azoto eliminato. Questo significa che la denutrizione o le diete poveri di proteine determinano effetti inevitabili anche sulle concentrazioni di potassio nel sangue. Si è notato che l'eliminazione fecale urinaria del potassio può potenzialmente aumentare anche a seguito di restrizione prolungata dell'attività muscolare. Quindi è presumibile che l'esercizio fisico in condizioni normali oltre a mantenere in buona salute l'apparato muscolare permette di trattenere più potassio nel corpo. I sali a base di potassio sono il cloruro di potassio, il fosfato di potassio e il bicarbonato di potassio. Il fosfato di potassio è tipicamente presente negli alimenti in quanto si utilizza nell'industria alimentare come agente antiossidante e regolatore di acidità. Il bicarbonato di potassio viene invece utilizzato nei soggetti affetti da ipocaliemia ed acidosi metabolica. Il cloruro di potassio viene invece raccomandato in tutti gli altri casi. In commercio esistono prodotti a rilascio controllato o prolungato di cloruro di potassio che vengono assorbiti gradualmente durante il transito intestinale, oppure esistono polveri effervescenti per un rilascio immediato. Purtroppo le forme liquide per uso orale, sebbene poco costose, sono scarsamente utilizzate poiché hanno un sapore amaro e quindi si verifica una bassa aderenza terapeutica. Quando i livelli di potassio si aggirano intorno a 3,5-4 millimoli litro la supplementazione di potassio è consigliata, mentre è fortemente consigliata quando le concentrazioni plasmatiche scendono sotto i 3,5 millimoli litro, soprattutto per quanto riguarda i soggetti affetti da patologie cardiocircolatorie anche se asintomatici. Invece nei casi gravi è necessario ricorrere alla terapia indovenosa a base di soluzioni di potassio. Naturalmente un caso particolare sono i soggetti sotto terapia con diuretici tiazzinici, dell'ansa o dosmotici per il controllo della pressione arteriosa. In questi casi bisogna monitorare periodicamente le concentrazioni plasmatiche del potassio e in caso di anomalie verificare la possibilità di cambiare strategia antipertensiva utilizzando per esempio diuretici risparmiatori di potassio oppure qualora non fosse possibile integrare il potassio con la dieta. I principali disturbi che si possono verificare durante l'integrazione comprendono la nausea, il vomito, le ulcerazioni gastrointestinali, la flatulenza, i crampi addominali e la diarrea. Le ulcerazioni della mucosa gastrointestinale sono eventi rari ma non da sottovalutare. Si è notato che le compresse a lento rilascio hanno un rischio maggiore di provocare ulcere sanguinanti rispetto alle formule microincapsulate. Le linee guida generali risalgono al 1998 e riassumendo i punti fondamentali ritroviamo la raccomandazione di sostituire il sale da cucina con il cloruro di potassio per i pazienti ipertesi e che non riescono a diminuire l'assunzione di sale. L'integrazione di potassio è utile nei pazienti affetti da diarrea, vomito, bulimia o che fanno uso cronico di lassativi o diuretici. Le formule microincapsulate sono di norma meglio tollerate in quanto causano minor rischio di effetti collaterali. Il solo controllo sierico del potassio non è sempre efficace poiché, come abbiamo visto, è influenzato per esempio dall'insulina o dal pH del sangue. È quindi preferibile associare nei casi gravi, oltre all'analisi della concentrazione plasmatica del potassio, anche la misurazione della secrezione urinaria di potassio nelle 24 ore. Per la prevenzione dell'ipocaliemia l'integrazione orale di 20 millimoli al giorno di potassio è sufficiente. Invece in caso di ipocaliemia conclamata sono utili dosaggi variabili compresi tra 40 millimoli e 100 millimoli al giorno di potassio a seconda delle condizioni cliniche del paziente. In caso di ipertensione è sempre utile mantenere i livelli sierici di potassio sopra i 4 millimoli litro. Come ho già specificato in caso di terapie farmacologiche a base di diuretici tiazzimici, dell'ansa o dosmotici, è utile, qualora necessario, integrare il potassio. In questi casi, se si verificano gravi carenze di potassio, è necessario modificare la terapia antipertensiva. Anche in questo caso la raccomandazione è quella di mantenere le concentrazioni plasmatiche del potassio di almeno 4 millimoli litro, con un monitoraggio efficace da eseguirsi a cadenze regolari nel corso del tempo. Inoltre è consigliato, qualora necessario, un'integrazione di magnesio per facilitare l'assorbimento del potassio a livello cellulare. I pazienti diabetici devono monitorare con estrema attenzione i livelli sierici del potassio, poiché le terapie antidiabetiche a base di insulina o comunque le variazioni della glicemia possono influire negativamente sulle concentrazioni di potassio nel sangue. I pazienti asmatici sotto terapie a base di beta 2 agonisti devono monitorare i livelli sierici del potassio e qualora necessario devono integrare questo minerale. Le diete occidentali tendono ad essere più ricche di sodio che di potassio e questa condizione non è tra le più favorevoli. Il motivo è molto semplice, poiché la nostra natura è stata concepita per assumere più potassio rispetto al sodio. L'assunzione alimentare di dosi equilibrate di potassio permette di attivare quei meccanismi fisiologici che garantiscono il controllo della pressione arteriosa, in quanto per eliminare il potassio dal corpo inevitabilmente viene eliminato anche il sodio, che rappresenta uno dei principali minerali ipertensivi. L'azione del potassio introdotto con un'alimentazione bilanciata è quindi paragonabile a quella di un diuretico senza tuttavia provocare effetti collaterali. Ci sono molte evidenze cliniche che mostrano quanto il consumo di potassio sia fondamentale per il buon mantenimento della pressione arteriosa, della funzione cardiocircolatoria e dell'attività metabolica sia nei soggetti anziani che in quelli giovani. In Cina, per esempio, uno studio clinico condotto tra il 2004 e 2008 su oltre 512 mila individui di età compresa tra i 30 e i 79 anni, ha dimostrato che l'assunzione regolare di frutta, che è una fonte di potassio, permette di ridurre il rischio di malattie metaboliche e cardiocircolatorie, tra cui l'ipertensione e il diabete. Nel 2006 una revisione sistematica e meta-analisi suggerisce che il consumo di potassio può ridurre la pressione arteriosa sistolica di 4,48 mmHg e ridurre la pressione diastolica di 2,96 mmHg. I ricercatori concludono che per il controllo della pressione sono necessari dosaggi giornalieri di potassio di 90 millimoli e questo coincide con quanto già stabilito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Un'altra revisione sistematica pubblicata l'8 febbraio del 2023 ha sottolineato che l'integrazione di potassio può essere di aiuto per migliorare anche la funzione endoteliale, poiché svolge effetti vasodilatanti. Anche in questo caso i ricercatori concludono che il potassio può essere di aiuto per prevenire il rischio di patologie cardiocircolatorie. Oltre al potassio anche una dieta a basso contenuto di sodio può favorire già di suo un abbassamento significativo della pressione arteriosa, come dimostrano diversi studi clinici. Per esempio in uno studio condotto su 412 individui è stato dimostrato che una dieta a basso contenuto di sodio può ridurre la pressione arteriosa sistolica di 7,1 millimetri di mercurio nei soggetti non ipertesi e di 11,5 millimetri di mercurio nei soggetti ipertesi rispetto ad una dieta ad alto contenuto di sodio. Una revisione sistematica e meta-analisi condotta su 20 studi clinici per un totale di 1.216 partecipanti ha dimostrato che la somministrazione di potassio per un periodo variabile da 2 a 24 settimane non sembra provocare cambiamenti nei livelli sierici della creatinina. Le dosi di potassio utilizzate in questi studi clinici variavano da 22 a 140 millimoli al giorno. Secondo questi risultati i ricercatori concludono che l'assunzione a breve termine di potassio non dovrebbe avere effetti colaterali a livello renale. Negli integratori alimentari non è stata definita una dose giornaliera massima per questo minerale. Tuttavia per gli integratori il Ministero della Salute sancisce quanto segue. Per apporti con la dose giornaliera uguali o superiore a 1000 mg va riportata in etichetta l'avvertenza. Per l'apporto di potassio si consiglia di sentire il parere medico. L'assunzione contemporanea di alcuni farmaci può a sua volta interferire con la ritenzione di potassio nell'organismo. L'uso è sconsigliato per i bambini. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se avete delle domande o delle curiosità potete farmele nei commenti oppure scrivermi a infochiocciolaboxalcorporation.com e noi ci vediamo al prossimo video.